Ben a tutti ragazzi, volevo darvi un piccolo annuncio, ma piccolissimo, molto piccolo e vi inquadrerò lo schermo del computer in modo molto brutto perché ho riformatato il computer e non ci ho prescritto video e volevo dire che dopo, finalmente, un anno di sacrifici, soldi spesi per portare i computer ad aggiustare colpa dei virus, che era vero alla fine, colpa dei programmi che scaricavo per voi quindi, anche se molti di quei video sacrificati sono stati poco votati dopo tutto, sono diventato partner di YouTube so che tutti quelli che lo ascolteranno in questo video non ci creteranno io lascio fare a voi, se ci credete bene, se non ci credete male quando mi arrivano i soldi dalla posta, io prendo e ve li faccio vedere vi faccio vedere una cosa visto che il social blade, una volta entrato, si fanno entrare si avrà accesso, ma non mi devo ricordare, cioè il faglio con se ne ha fatto ma non sta qua da qualche parte vi faccio vedere nel frattempo la grafica di YouTube come sto messo a partner sul norme della community ho una buona reputazione avvertimenti sul copyright ho una buona reputazione rimedicazioni di contest ID ho una buona reputazione monetizzazione perfetta video titulata superiore lo posso fare le annotazioni esterne lo posso fare miniatura personalizzata lo posso fare iscrizioni a pagamento devo avere almeno 10.000 iscritti ricorsi di content ID lo posso fare e video in elenco e privati posso farlo e poi ammettino al vivo, lo attivo da ora che è successo? ok sembra tutto a posto ho preso aperto una nuova sezione su YouTube che si chiama strumenti di creazione raccolta audio bene vabbè e anche le canzoni insomma sto perfetto la partner e ragazzi vi devo ringraziare ancora vi amo vi stimo che vi devo dire più vi devo dire soltanto grazie per tutte le 164 persone che si sono iscritte al mio canale e tutte le persone che hanno visto il mio video in tutto quasi 33.000 volte e ragazzi io vi ringrazio tutti un bacio anche se ho fatto un video pochi minuti fa e ragazzi sono contentissimo perché io non potevo mai più avere la partner visualizzazioni poche iscritti che scendevano non si capiva niente e ora invece ci ho voluto ricredere infatti ho fatto un video a capa di cazzo di Italian Soccer che avevo prescritto video e l'ho voluto far male per fare le cose così per mettere poco tempo a caricarlo ho buttato quel video e poi ho cominciato quasi a settembre già abbandonato e poi sono stato in vacanza la 2 di agosto quindi per almeno un mese potevo fare i video non li ho neanche fatti non mi sono proprio connesso a Youtube solo per vedere il wrestling punto e basta ma da quando ho visto che avevo avuto più iscritti ci ho voluto provare provando provando sono alzati poi sono scesi poi hanno avuto una risvolta esagerata e l'ho fatto ragazzi il video finisce qui spero tanto che vi abbia divertito anche se non ho fatto vedere quasi niente e vi ringrazio ancora per la partner e per i 164 iscritti che preferisco che aumentassero invece di diminuire ah e dico a tutte voi teste di cazzo non hai i miei iscritti quelli che sono appena iscritti che si iscrivono e poi si disiscrivano perché io non mi sono iscritto al loro canale Youtube ha un problema se tu hai tutti gli iscritti non te li dice tutti quindi tu mandami un messaggio e dimmi che ti sei iscritto e chiedimi che ricambio io lo faccio ma dato che lei è proprio Youtube che fa male non me lo posso permettere perciò mandami un messaggio stalker commentatore è iscritto vabbè il video finisce qui alla prossima e grazie ancora ragazzi ciao a tutti un saluto al vostro caro Fred ciao a tutti ciao a tutti